Una stagione unica, un finale intenso. Sei pronto a viverlo con noi? SSC Bari, operazione gran finale. Sei un abbonato o un titolare di fancard? Registrati sul sito ufficiale sscalciobari.it e riceverai gli esclusivi codici sconto per portare i tuoi amici con te al San Nicola a metà prezzo. È lo sprint finale. Facciamolo insieme. Operazione gran finale. Esserci è ciò che conta.